signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e questo per me in realtà è un video particolarmente importante perché siamo arrivati al centesimo video della rubrica delle fondamenta del dungeon che è quella in cui parliamo degli elementi fondamentali di mastering world building e quest building e tutto quello che dovrebbe essere proprio la base del gioco di ruolo considerando che quando otto anni fa ho aperto il canale questa avrebbe dovuto essere una rubrica autoconclusiva di una dozzina di episodi capirete quanto arrivare al centesimo sia non solo una pietra miliare per il canale ma anche una dimostrazione di quanto io non sia assolutamente in grado di pianificare quello che pubblico qui sopra vista l'ospensione speciale comunque ho deciso di trattare un argomento che in realtà è sulla lista dei video da fare da anni ma per un motivo o per l'altro non ho mai trovato occasione di farlo nella maniera in cui avrei voluto anche se forse in questa stagione resterà un attimo slegato da tutto il resto ma non perdiamo altro tempo il titolo del video l'avete visto oggi andiamo a parlare del fatto che quando voi inserite nella vostra quest dei mostri non devono essere lì solamente per picchiare i personaggi ma devono avere anche una funzione allegorica che cosa vuol dire questo lo scopriamo in questo video per evitare fraintendimenti cominciamo come sempre definendo quello di cui stiamo parlando quando parliamo di allegoria intendiamo l'atto di inserire all'interno di un testo nel nostro caso la quest che stiamo giocando un concetto astratto rappresentandolo però con un'immagine un altro elemento di gioco più concreto che viene descritto ai giocatori questo ovviamente non si limita esclusivamente ai mostri può essere applicato a qualsiasi elemento della quest o del gioco su cui voi come master volete porre particolare enfasi ma non potete o non volete dichiararlo esplicitamente ai giocatori volendo fare un esempio concreto diciamo che voi come master dovete introdurre un nuovo png che è estremamente malvagio ora al di là del fatto che magari non volete dichiararlo come malvagio immediatamente la malvagità non è qualcosa che si possa vedere non è qualcosa che voi potete descrivere semplicemente dal suo aspetto fisico quindi quando il personaggio verrà presentato all'interno del gioco starà facendo qualcosa che sarà appunto simbolico della sua malvagità dato che malvagio e banale e bello diciamo che verrà presentato in quest mentre sta rubando le caramelle ai bambini i giocatori capiranno che quel comportamento è simbolico del fatto che lui sia malvagio anche se voi non lo direte mai esplicitamente se ci pensate un attimo poi in mente vi verranno in mente dozzine di esempi di come queste allegorie vengono utilizzate in qualunque forma di media un personaggio vanitoso avrà con sé uno specchio continuerà a sistemarsi i capelli il veterano di guerra per dimostrare quanto è duro avrà delle cicatrici sul volto e cose del genere ma vale anche per i luoghi durante un funerale dato che tutti sono tristi e stanno piangendo o piove voi come master ovviamente siete fortemente incoraggiati a inserire questi elementi allegorici ogni volta sia possibile e in realtà anche come i giocatori mettere elementi allegorici nel vostro personaggio può essere molto utile per fornire informazioni su cosa o chi sia quel personaggio sia il vostro master che gli altri giocatori in una maniera molto efficiente questo vale soprattutto per quelli che saranno i temi e i motivi fondanti della quest o della campagna che state portando al tavolo su che cosa sia il tema ne abbiamo già parlato in un altro video ve lo lascio linkato qua in alto ma per dirla semplice il tema è quello di cui la vostra storia parla se il tema principale della vostra campagna diciamo ad esempio sia il conflitto tra la legge e il caos tutti gli elementi importanti all'interno della vostra campagna dovrebbero contenere qualche significato allegorico proprio del conflitto tra legge e caos innanzitutto se il party è schierato con una delle fazioni diciamo che il vostro party è schierato apertamente a favore del caos allora l'antagonista principale sarà in qualche modo schierato alla parte della legge sia in maniera diretta sia anche in maniera appunto allegorica sarà ossessivo del controllo vorrà cercare di far fare le cose solo come lui dice che vengano fatte o come la tradizione vuole che vengano fatte cercherà di imporre il proprio controllo sugli altri ma anche tutti gli altri elementi dovrebbero seguire la stessa allegoria la città in cui vivranno i giocatori dovrebbe essere a sua volta in equilibrio tra la legge e il caos magari ci sono forze dell'ordine che vogliono far rispettare proprio la legge che si oppongono a bande di criminali che invece cercano di portare il caos e l'anarchia o quello che è ovviamente ognuno di questi elementi dovrebbe dimostrare sia i lati positivi che i lati negativi sia della legge che del caos e questo ci porta appunto al tema principale del discorso cioè che anche i mostri anche i combattimenti che i giocatori dovranno sostenere durante la campagna dovrebbero incorporare questo tipo di allegorie al loro interno ora volendo essere precisi la stessa presenza dei mostri all'interno della storia è già di per sé una forma di allegoria ora in un singolo video di youtube non posso farvi il riassunto di tutta la storia della letteratura anzi in realtà qua ci sono cose che arrivano alla preistoria però vediamo di andare a concentrarci sugli aspetti più pratici in tutti i testi fantastici che l'umanità abbia prodotto negli ultimi 7.000 anni cioè da quando è stata inventata la scrittura il racconto fantastico è un tipo di opera che c'è sempre stato e in tutte queste opere l'eroe ha dovuto affrontare varie imprese per poter raggiungere il suo obiettivo ora praticamente sempre sia le imprese affrontate quindi i mostri sconfitti o i problemi risolti che l'obiettivo finale sono delle forme allegoriche per qualcos'altro dai grandi ideali filosofici o politici ai problemi della vita di tutti i giorni e prima che me lo trovi nei commenti sì stiamo parlando anche del viaggio dell'eroe di Campbell ma non solo di quello Campbell ha preso in esame solo alcune storie quasi esclusivamente della letteratura occidentale e qui stiamo facendo un discorso più ampio allo stesso modo anche voi quando preparate gli scontri per i vostri giocatori dovreste contribuire a questa enorme mole della narrazione fantastica dell'umanità cercando di dare dei significati simbolici e quindi rappresentare i mostri come allegorie di qualcos'altro che è un tema significativo all'interno della vostra quest nel nostro esempio abbiamo detto che il tema principale della vostra storia è il conflitto tra l'ordine e il caos bene i giocatori ovviamente dovranno affrontare dei mostri legati ai poteri dell'ordine e ai poteri del caos questo è anche abbastanza scontato ma dovreste mettere anche incontri che in qualche modo risuonano con questo tema anche per altri motivi magari ci saranno dei png simbolici dei lati negativi dell'ordine che cercano in qualche modo di costringere o di controllare i giocatori in combattimento e magari personaggi legati al caos che cercheranno di infrangere le regole o faranno cose che non è possibile normalmente fare appunto perché loro sono una manifestazione del caos questo tipo di incontri continuerà a mantenere il tema di conflitto di ordine e caos anche se l'ordine e il caos non verranno mai citati esplicitamente in questo modo praticamente tutti gli incontri che i personaggi faranno non solo quelli sociali e non solo le descrizioni del master ma anche proprio i meri combattimenti in cui in realtà tecnicamente dovrebbe esserci poco di ruolistico invece continueranno a avere una forte rappresentazione tematica e contribuiranno ai temi generali di tutta la quest questo non è sicuramente qualcosa che sia stato inventato con il gioco di ruolo come ho detto è letteralmente all'alba dei tempi che i significati allegorici vengono incorporati all'interno degli avversari che l'eroe deve superare possiamo anche fare degli esempi viene detto spesso che ci sono persone che all'apparenza sono calme e tranquille ma in determinate circostanze possono diventare estremamente feroci delle vere e proprie bestie molte culture hanno sviluppato l'allegoria del lupo mannaro a riguardo o altre creature fondamentalmente affini persone che determinate circostanze si manifestano come per esempio nel mondo occidentale il mito più diffuso è quello del lupo monarum che è di origine romana e il lupo mannaro diventa mannaro quando c'è la luna piena che tra l'altro nel mito romano era già a sua volta un'allegoria di follia e instabilità nella loro concezione originale gli zombie erano allegorici di tutto quel tipo di persone che perdono la propria volontà di fronte alle pressioni di qualcun altro e quindi lo zombie era del tutto assoggettato alla volontà del bokor del mago malvagio fin tanto che non era più in grado di prendere decisioni da solo e agiva come se fosse un cadavere ambulante nella trasposizione contemporanea del mito gli zombie normalmente sono proprio cadaveri ambulanti e il mito ha anche cambiato allegoria adesso gli zombie sono non morti privi di mente che esistono solo per distruggere e divorare i viventi diventando una rappresentazione allegorica della malattia nella sua forma più generale non ha una volontà esiste solo per far del male e tra l'altro chi viene morso dallo zombie diventa a sua volta uno zombie dopo quello che è successo non devo stare a spiegarvi meglio questa allegoria vero? nel mito greco Pandora apre il vaso che contiene tutti i mali del mondo spinta dalla troppa curiosità e poco buonsenso e nel mito moderno abbiamo dozzine di trasposizioni di che cosa voglia dire quando la ricerca non è accompagnata dall'etica quando le proprie aspirazioni vanno al di là di quello che è razionale da Skynet ai dinosauri di Jurassic Park questi sono tutti esempi del modo in cui voi dovreste lavorare quando pensate agli incontri per la vostra campagna definire qual è l'allegoria centrale che volete inserire e poi creare dei mostri che nel loro comportamento o con i loro poteri in un modo o nell'altro rispecchino quell'allegoria all'interno del vostro mondo di gioco questione complessa ma prima o poi doveva essere trattata comunque adesso prima di chiudere però voglio fare due parole in generale per quanto riguarda qua la serie delle fondamenta del dungeon ci stiamo avvicinando alla pausa estiva quindi per quest'anno la serie delle fondamenta del dungeon termina qui andremo ovviamente avanti con le altre rubriche del canale sto anche lavorando probabilmente già a una serie di progetti per questa estate ma quando ripartirà poi a settembre in realtà ripartirà da capo perché oramai dopo otto anni nove anni quando saremo a settembre di canale ho rivisto i primi video della serie e francamente non sono più di una qualità che è accettabile anche solo per la media degli altri video mettiamola così e dato che questa è la serie delle basi ed è quella in cui io più volte faccio riferimento anche in altri video che questa sia la serie con dei video subpar rispetto agli altri non mi sembra proprio il caso quindi da settembre riprenderemo alcuni vecchi video rifatti meglio e probabilmente anche espansi i primi video erano veramente corti detto questo a questo punto mi serve anche il vostro contributo ditemi se ci sono dei video che secondo voi devono proprio essere rifatti sia di questa serie che degli altri a questo punto utilizzeremo la nona stagione del Master Kai per rimettere a posto le cose nelle stagioni vecchie in previsione della decima fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente fatemi sapere anche se avete domande, dubbi, perplessità su quello di cui abbiamo parlato oggi simbolismi e allegorie sono un discorso abbastanza complesso me ne rendo conto comunque come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che dovete accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo di telegram dove si riunisce la community del Master Kai per il resto io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao